Stefano, Alice, Leonardo, Livio, Francesca, la nonna, Marco, Eric, Fabrizio, Ton, Claudio, Giulia, Matteo, Felix, Giovanni, grazie per il vostro supporto. Se vuoi abbonarti anche tu puoi farlo mediante Patreon, tasto abbonati qui su YouTube oppure con Paypal, PostePay o Bonifico contattandomi in privato. La vendetta. Che bella parola, eh? Che bella parola di merda e soprattutto che bella idea di merda dietro la parola vendetta. La vendetta. Quella promessa di ristabilire un equilibrio. Giustizia è fatta. Mi sono vendicato. Quell'idea di ripagare il dolore con altro dolore. Ma è possibile che non lo capiate? La vendetta non è giustizia. È una bugia che la vendetta sia giustizia. La vendetta non è mai e poi mai giustizia. E la vendetta non è nemmeno forza. La vendetta è solo, solo il lato più debole e miserabile dell'essere umano. Ripeto se non fosse chiaro. La vendetta è il lato più debole e misero dell'essere umano. E questo lato viene mascherato da virtù, qualità, pregio. Quando in realtà non è nient'altro che rabbia cieca. Odio bestiale travestito da coraggio. E chi si abbassa a cercare la vendetta non è diverso da chi commette quei crimini di cui ci si vorrebbe vendicare. E' dura da accettare. È così. Non migliorate questo mondo. Contribuite a rendere questo mondo un posto di merda con i vostri atti vendicativi. In questo mondo ci insegnano ad odiare chi sbaglia e chi commette crimini. Ci insegnano a disumanizzare chi commette un crimine. Vengono chiamati mostri alcuni criminali, quelli che si macchinano delle azioni più disgustose. E sapete perché si utilizzano certi termini? Perché chiamarlo mostro vi aiuta a renderlo più semplice da distruggere. Perché accettare che anche la peggior persona, quella che fa le cose più orribili, sia comunque una persona, è scomodo per voi. È troppo difficile da accettare. Ma come? È una persona? Anch'io sono una persona. Allora non può esserlo. Ma invece sì. Anche chi ha fatto il peggio è comunque una persona. E se è una persona, e lo è, va fermato. Non va giustificato, va fermato. Ma con giustizia, quella vera però. Non con la furia, con la brutalità di una folla urlante, linciante, schiamazzante. Il linciaggio non è giustizia. Il linciaggio è barbaria. E voi, che volete sangue per sangue, dolore per dolore, occhio per occhio, dente per dente, altro che 2024 dopo Cristo, 2000 avanti Cristo, voi vi siete mai fermati a chiedervi, ma sono davvero migliore di chi condanno? Davvero credete che l'odio vi rende migliori? Che l'odio vi renda forti? Che farsi giustizia vi renda degli eroi? Ma no, siete dei complici di questo mondo di merda. Quando un uomo fa un qualcosa di inaccettabile, quando un uomo fa del male, l'unico obiettivo dovrebbe essere proteggere gli altri. Impedire che quel male si ripeta. Punto. Arrestarlo. Quando si tratta di reati. Punirlo, ma non con l'idea di farlo soffrire e magari godere di questa sua sofferenza. Punirlo, ma con l'idea che possa col tempo capire, che possa cambiare, che possa essere recuperato. E se non cambierà mai, è possibile, se non cambierà mai, se non verrà recuperato, almeno avrai dimostrato che sei migliore di lui, non ti sei abbassato al suo livello. E qua si vorrebbe addirittura che lo Stato si vendicasse, con la pena di morte, con le torture. barbari. Il linciaggio è la forma più disgustosa dell'azione umana. una massa di frustrati che si sfogano su un bersaglio per sentirsi forti, per sentirsi giusti. Anche quelli che non c'entrano niente con il crimine che è stato compiuto. Perché potrei capire un padre, un parente di una vittima. almeno lui è parte in causa. Ma abbiamo anche persone esterne che non c'entrano nulla, che fingono intervenendo in quel modo vendicativo e linciante di essere persone buone. Sono feccia. Ovviamente non va bene neanche se sei parte in causa, la vendetta. Non ti servirà sentirti meglio. Una volta che ti sarai vendicato, non starai meglio. È un'illusione l'idea Devo vendicarmi per stare meglio. Fa stare solo peggio la vendetta. Peggiora la situazione, peggiore il mondo. La giustizia non è picchiare, non è umiliare, non è annientare, non è vendicare. Vi piace essere giustizieri, eh? Siete dei carnefici in realtà. Carnefici che hanno trovato un'occasione per sfogare la propria rabbia e il proprio odio. E non importa che, tra virgolette, lui se lo meritava. Non è mai giusto vendicarsi. È solo un modo per nascondere l'incapacità di affrontare il dolore, di affrontare anche un'ingiustizia che quel criminale ti sta facendo vivere. Ma la giustizia è un'altra cosa. La giustizia non è rispondere occhio per occhio, dente per dente. La giustizia è guardare in faccia anche al più spietato dei criminali e dire tu sei una persona, hai fatto cose orribili, mi hai fatto soffrire con le tue azioni, devi pagarne le conseguenze, devi essere fermato, ma io non sarò mai né come te né anche lontanamente simile a te. La vera giustizia non è l'urlo rabbioso della folla. È il silenzio freddo della ragione. La giustizia è togliere un pericolo dalla società per proteggerla, ma non per distruggere una vita con la stessa violenza che condanniamo. Ed è anche sperare, anche contro ogni evidenza, che chi ha sbagliato possa un giorno capire e cambiare. Qualcuno ora mi dirà, ma vorrei vedere te se ad esempio ammazzassero tua madre. Non ti vendicheresti? No. Starei male, sarei incazzato, avrai rabbia, ma non farei sfociare quella rabbia in vendetta. E sapete perché? Qual è un motivo molto grande per cui non mi vendicherei? Oltre a considerare la vendetta sbagliata? è proprio perché in questa prospettiva di mia madre ucciso da qualcuno, se mia madre potesse vedere l'eventuale vendetta messa da me in azione, mia madre sarebbe giustamente molto delusa da me. Non sarebbe contenta. Non sarebbe orgogliosa di me che mi sono vendicata di lei. Sarebbe triste per quella mia reazione. E sapete ancora cosa è più scomodo? Tornando al tema, accettare che chi ha fatto del male non è nato così. Non ha scelto liberamente una mattina di essere un carnefice. Probabilmente figlio di traumi, abusi, condizionamenti che l'hanno plasmato in quel modo. E questo non lo giustifica, non giustifica quello che ha fatto, non assolve, non riduce la gravità delle sue azioni. Si tratta solo di capire. È molto diverso. Capire significa cercare le radici del cosiddetto male, le origini del male. Per spezzarle alla base, per costruire un mondo in cui magari si gettano le fondamenta per far sì che il male non possa trovare tali radici. tali semi non è nemmeno per compatire le eventuali sofferenze che può aver avuto da piccolo. È semplicemente tutta questa comprensione funzionale ad impedire in un futuro che le disgrazie possano ripetersi. Capire è l'unica strada per essere davvero umani. Però voi preferite la vendetta. Perché è molto più semplice, non ci vuole nulla. significa essere basici, essere evoluti è altro. È troppo facile rispondere al male con male. Invece noi dovremmo avere un'altra ambizione, fermare il ciclo. e il ciclo non lo si ferma con la vendetta. Non lo si ferma rispondendo all'odio con l'odio. In quel modo tutto rimane immobile, incatenato alla violenza. La vendetta, la violenza non risolve, non ripara, non restituisce niente, non ci torna indietro neanche quello che è stato tolto con il crimine di cui stiamo, per cui stiamo soffrendo. La vendetta è marcia. La vendetta fa marcire ancora di più il mondo. Ciao a tutti.